come vorresti metterti non lo vedi tu insomma ecco tremo un po buongiorno buongiorno con allora dici alessio proietti colonna un po lungo principe magari no comunque no conte duca conte meglio ancora però nel contesto qui a ostia lei mi è un po riservista dico bene 4x2 me la racconti tutta quanta diamoci del tour come è nata come è nata come è nata il quinto che andrà a glasco per la 4x2 perché diciamo aprile non è andata un granché quindi teoricamente sarei dovuto essere fuori da questa 4x200 poi per fortuna nel regolamento c'era la possibilità di andare molto bene al sette colli e tu sei e me lo sei andato me lo sono andato me lo sei andato tutto cioè hai aperto il gas e torato e grazie perché ci deve ancora insomma volevo veramente ottenere questo posto per glasgow e al sette colli è andata molto bene ho fatto il terzo tempo in italia quest'anno però comunque sono ritenuto il quinto perché alla fine sono stato invocato dopo gli altri e niente adesso sono qui a ostia stiamo preparando questa gara caro proietti colonna com'è l'avventura con il moro c'è un'avventura parziale una versione si è un'avventura parziale cioè ti fai una sorta di come dire di passaggio così pre durante l'anno abbiamo fatto tre tre o quattro collegiali insieme quindi lo hai lo hai già testato lei già sta già hai già assaggiato a scherzi che fa dice noi hai già assaggiato il quaderno del moro qualcuno dice malefico per un culo per il nome vabbè ma poi da lontano sembra una cosa terribile però un po burbero vivendo la si sta bene qui o se poi diciamo che abbiamo fatto appunto tre quattro collegiali una settimana due settimane più o meno intensa adesso per fortuna essendo prima delle gare non è così intensa la sessione e iniziamo piano piano a fare di meno mi racconti un po questo 4 per 2 senza il detti che comunque si sta allenando con te no si parrebbe e parrebbe sta riprendendo e vabbè ovviamente lui è il più forte l'immenso ma che ma che ti dice da consiglio insomma è un po così ci sfotte ci sfotte anche perché gli gireranno un po non essere della partita però con la tua scelta matura sicuramente tornerà più forte di prima quindi aspettiamo per l'anno prossimo ci racconti un po di lei i principi di me romano di roma vicino si arriva vicino si vabbè qui stiamo a ostia scusi e qui stiamo a ostia quindi faremo a roma di una mezz'oretta da qua è una mezz'oretta quindi verso il centro verso il nord no no verso l'euro verso l'euro è una cosa è comoda è comoda comodissima poi aurelia aurelia nuoto marina militare anche marina allenato da da roberto marinelli ha il famoso quello con ma lei è laziale come il marinelli no no c'è qualche di sviluppo ogni tanto la roma nistra roma basta che non mi dicesse qualcos'altro giurentino di ritorno non potrei mai come con me trova certamente e va bene ma non parliamo di calcio parliamo di nuoto e l'avventura l'avventura classe un'avventura seria forse la prima veramente perché poi ovviamente a parte le esperienze giovanili i due euro junio anzi una baggera l'olimpiadi giovanili europei vabbè e poi l'università di l'anno scorso comunque è stata anche una tappa importante è stato bello poi c'è la medaglia comunque devo dire che c'è non so bene cosa aspettarmi sicuramente la cosa che a cui punto è divertirmi ma in acqua non fuori sì ma divertivo deve fare anche una cosina insomma degna del nome proietticolonna quello il divertimento ecco bravo quindi andare forte no poi al di là di quello che succederà fuori dall'acqua di nuove conoscenze amici però sicuramente il mio obiettivo c'è mi sto focalizzando su 200 bravo focalizza due su due solo quattro no no quattro si è ne ha parlato ma molto molto probabilmente anche perché sui due c'è un bel territorio di caccia sempre livello molto alto quindi ce ne sono anche altri non facciamo i nomi ma intanto abbiamo un cognome qui celebre proietti colonna senti che dire ci vedremo al prossimo salotto acquatico qui siamo flash ben allestiti ben allestiti qui intanto ci abbiamo un swing build ma non abbiamo ancora scoperto non abbiamo ancora detto cosa però build vuol dire costruzione lei mi pare che sia in una bella costruzione grazie alla prossima grazie saluto a tutti al salotto acquatico di swing build ciao ciao grazie